Dentro gli uccellini e fuori i calzini. Coraggio, alzare il culo in sella al mulo. I piedi lavati e stirati tra cinque minuti. Muoversi. Masso, sono le cinque, avevi detto le sei. E allora? Io sono un bugiarto. Credete che il nemico prenda appuntamento prima di farvi un buco di culo supplementare in fronte? Andiamo. Muoversi. Siete Marines adesso. Dovete improvvisare, adattarvi e raggiungere lo scopo. Quattro minuti. Fuori. Dobbiamo essere svelti, silenziosi e micidiali. Una sola sgrullata d'uccello, signorine. La seconda costituisce masturbazione e noi non siamo dei segaioni. Dormito bene, signor Jones? Oh, mamma, dimmi che è un incubo, dimmi che è un incubo. Svegliami, mamma, per favore. Lotone, pronto. Torna in riga. Il corpo dei Marines cerca uomini veri. Sfortunatamente voi non lo siete. Siamo noi che dobbiamo sfondare il fronte perché gli altri ci seguono. La resa non è nel nostro credo. Su, ripetetelo. La resa non è nel nostro credo. Se non lo dite più forte, la vostra prossima libera uscita sarà per andare in pensione. La resa non è nel nostro credo. Più forte. La resa non è nel nostro credo. Urra. Via quelle magliette. Ma è matto. O portiamo tutti la stessa maglietta oppure niente. E facciamolo con te. Tu come ti chiami? Caporale Fragetti, Ganni. Non si sporca per terra, Fragetti. Comportamentanti ecologico. Tu come ti chiami? Apponte. E tu? Profil. E tu? Chignones. E tu? Collins. Allora, colite. Coglione. Profilattico, eccetera. Siete proprio carini. Sembrate tante indossatrici. E vi voglio vedere con i capelli a posto domattina. E questo vale per tutti. Quando sembrerete dei Marines comincerete anche a sentirvi come dei Marines. E per Dio comincerete pure a comportarvi come dei Marines. Fianco, destra, destra. Avanti. Marchi. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno.